Covid-19 in Sicilia, 1.587 nuovi positivi, 37 morti, 237 guariti, 232 casi a Siracusa. Sono 1.587 nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 8.698 tamponi, con un tasso di positività in leggera discesa, ma sempre molto alto, al 18,25%. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore, che portano a 2.765 i deceduti dall'inizio della pandemia. I positivi sono 42.819, con un aumento di 1.333 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.506, 33 in più rispetto a ieri. Mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1.298, 33 in più rispetto a ieri, in terapia intensiva i ricoveri sono 208, esattamente come ieri. I guariti sono 237. La distribuzione nelle province vede Catania con 469 nuovi casi, Palermo 451, Messina 246, Siracusa 232, Caltanissetta 75, Grigento 35, Enna 35, Ragusa 31, Trapani 13. Dati che si aggiungono a quelli riferiti all'intera scorsa settimana, resi noti questa mattina, che si fermano a domenica con numeri preoccupanti. Picco degli attuali positivi e crescita rapida e improvvisa dei nuovi casi sono gli elementi di preoccupazione che emergono dall'analisi statistica dell'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Sicilia nell'ultima settimana. Fra il 4 e il 10 settembre si è toccato il massimo storico di contagiati e si è registrato un incremento di due terzi di nuovo contagio rispetto alla settimana precedente. Nonostante in valore assoluto per i parametri attuali la Sicilia non sia ancora da zona rossa, l'epidemia corre e questo in genera paura e preoccupazioni. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 11.508, valore più alto del 66% rispetto alla settimana precedente quando si era già registrato un aumento del 36,2%. I tamponi positivi sono pari al 17,6% dei tamponi effettuati nella settimana, la settimana precedente era nel 14,1%. Con riferimento ai casi testati la percentuale di positive nella settimana è pari al 28,9% e insensibile aumento rispetto al 23,2% della settimana precedente. Sul fronte dei casi attualmente trattati il numero degli attuali positivi è pari a 41.506, valore più elevato dall'inizio della pandemia, 5.915 in più rispetto alla settimana precedente. Ieri si è registrato anche il picco nel rapporto fra tamponi e positivi con un valore del 19,8% mentre su base settimanale il valore è meno allarmante anche se in crescita. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati appare all'8,3%, la settimana precedente era il 7,8%. Grazie. Grazie. Grazie.